bentornati da darklight come vi ho promesso un clever bot nello speciale 10 iscritti anche se siamo già 12 è la seconda volta che registro perché prima parte che mi si era bloccato fai nezza freddi poi non avevo neanche la voce e siamo tornati su fnaf ho messo la videocamera che sarà qua in alto dove c'è il mio dito e continuiamo su fnaf almeno potrete vedere i miei spaventi ovviamente quando mi fanno i jumpscare non è che farò vabbè prima mi ha fatto di nuovo come l'altra volta il jumpscare boni ma si è come si dice bloccato tutto infatti l'altra volta mi hanno notato che il jumpscare di boni e faceva cioè il rallenty è perché non mi si dice ciò sto avendo problemi qua su su in casa con la connessione e varie cose anche se fnaf non fa connessione però da problemi anche sui dispositivi e vabbè partiamo continui siamo alla notte 2 come l'altra volta ora boni giuro che non sarai tu a farmi il jumpscare ma no non vale te ne sei già andato se basta boni 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 no dai boni sei un beastard boni 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 ecco ti bal dracone che ci fai qua eh miseria mi sto cacando sotto no ma voi non lo sapete ma io in realtà mi sto cacando sotto no chica no foxy infatti qua c'è qualcuno eh sì no foxy foxy no mi voglio tutti male perchè solo perchè sono cinese allora allora la seconda notte già non è partita male io nello scorso video quello lì ora che ho dovuto registrare avevo detto che non me ne sarei dato ma è una cazzata scusate per la parola chica è la e finchè chica è la va bene mi sta preoccupando foxy qua non trovo più boni boni camera di sleigh da audio only boni a parte che non vedo freddi ah tu sei sempre qua ball dracone boni lo sai che sei il mio animatronics da ora chi c'è ah no sei tu no a me sta preoccupando che non vedo boni 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 tua madre lì c'è no chica l'ospedale cica era qua ponnaia mannaia bananiii ecco ti che ti ho trovato i boni du cates manca cica la cica manca però mi sembra di averla vista mentre passavo così chi è la? boni boni non c'è più mi presuppongo che quello lì era boni chica la gallina minchiosa? chica? guarda che ti ingoio eh Yeà możli Think mamma mamma manca c'è pure 4 guarda che fai le cellule qua beğeniu will savoir ha mi sta preoccupando ci non Thousand o Note mannaguala banana farcita ragazzi abbiamo fatto una notte e sono a 5 minuti di registrazione noi sapete che spaventia palla che mi son preso il video termina qua e ciao ciao